Il PD è complice di Monti, rivoluzione civile contraattacca. Dopo le dichiarazioni di Renzi, che ieri ha accusato l'ex PM Ingroia di non correre per vincere, ma per far perdere i democratici, le reazioni sono immediate. Ingroia critica il bipolarismo italiano, è all'acqua di rosa, dice, e rivendica il vero voto utile per noi, gli unici a proporre il cambiamento.